Questa mattina su indicazione della regione Piemonte e della sala operativa regionale i volontari della protezione civile hanno consegnato presso tutte le case di riposo del BCO alcune mascherine di cotone che possono essere lavate e riutilizzabili almeno 10 volte. Questa è la prima fornitura messa a disposizione, può essere che nei prossimi giorni continui ancora la fornitura.